Sono Alessio, sono un attivista di Extension Rebellion e sto facendo questo video perché mi trovo in una situazione paradossale. Il 25 luglio infatti mi è stato notificato un foglio di via che mi ha obbligato a lasciare la città nella quale io studiavo, lavoravo e vivevo per tornare nella mia città di residenza, ossia Roma. Il foglio di via mi è stato dato durante un'azione del movimento ecologista Extension Rebellion, quando due attiviste si sono arrampicate sul palazzo della regione. Io in quell'occasione stavo facendo esclusivamente foto e video, ciò nonostante mi sono preso tre denunce e il foglio di via appunto, che mi ha obbligato a tornare. Trovo questa scelta del tutto illegittima e arbitraria e soprattutto politica. L'elemento surreale infatti di questa vicenda sta nel fatto che io a Torino vivo, studio e lavoro. Di conseguenza ci sono gli estremi per vincere un ricorso. Il foglio di via mi è stato notificato con la chiara consapevolezza che poteva essere ritirato. Dietro un ricorso che costa ben 500 euro. Questa è quindi una chiara scelta del questore, una chiara scelta politica, che ha il chiaro obiettivo di segare le gambe a un movimento che ha chiaramente dato fastidio. Il mio appello è quindi quello di continuare e di non lasciarsi intimidire da questo tipo di atti repressivi. Perché se si arriva a questo tipo di procedimenti vuol dire evidentemente che si sta dando fastidio e quindi sia sulla strada giusta.